Miss Stroop è a vostra disposizione per rispondere alle domande, vi prego nel prendere la parola di dire nome e cognome testata una domanda a testa. Prego. Luca De Capitani, Rai Sport, come sta la squadra, soprattutto chi si recupera rispetto alla gara contro il Torino? Buongiorno, la squadra sta bene, sta a una settimana in più di lavoro, purtroppo Carlos non ce la fa, perché la botta che ha preso domenica è un pochino più importante e dovrebbe sicuramente essere a disposizione della prossima. Poi per il resto tutti a disposizione, Pessina lo portiamo in panchina, ha qualche allenamento in più sulle gambe ed è a disposizione. Poi se vi interessa qualcuno ha a disposizione, in particolare. Dani Mota ha un problema, ha una mezza contrattura, quindi non sarà dalla partita. Adriano Ancona, Corriere dello Sport, ciao mister. Presidente Berlusconi, dopo la partita col Torino, ha detto che l'obiettivo è la salvezza, in qualche modo tutto si allinea rispetto a quanto dicevi tu nel pre e poi il commento che ha fatto il presidente. Ma no, ma io già sapevamo tutti, noi siamo allineati su quello che è l'obiettivo della squadra quest'anno, assolutamente. Sappiamo che è il primo anno e quindi il primo obiettivo deve essere la salvezza. Poi vediamo in corso d'opera, faccio anche un'altra considerazione che vado un pochino più sull'aspetto mio personale, che chiaramente avere a disposizione la squadra negli ultimi giorni, le ultime ore, bisogna assemblarla, è sicuramente un aspetto da considerare. Quindi ci sarà tanto lavoro da parte mia per mettere in campo una squadra subito con un'identità forte. Devo dire che la squadra col Torino mi è piaciuta molto, soprattutto nel primo tempo. Abbiamo avuto, secondo me, una fase del secondo tempo, una fase di stanca, ma forse più che altro mentale. Poi c'è stata una buona reazione nel finale e quindi, secondo me, sotto l'aspetto del lavoro siamo avanti. Dobbiamo recuperare i giocatori che sono arrivati, magari rispetto agli altri, all'inizio del ritiro, un pochino in ritardo e come tale che sia sono in ritardo di condizione e bisogna rimetterli in spolvero perché comunque sono giocatori bravi. E quindi vedi Pessina che purtroppo dopo tre allenamenti ha dovuto saltare praticamente 40-45 giorni di lavoro e sicuramente è un dato condizionante questo. Buongiorno, mister. Michele Marchetti, Telenova. Inutile dire che domani è una prova dura. A Napoli contro il Napoli fare il risultato sarebbe qualcosa di importante. Al di là di quello che sarà il risultato, Stroppa uscirà dal Maradona soddisfatto se? Ma se ci saranno o se ci saranno visti dei miglioramenti rispetto alla partita precedente. Ribadisco, la squadra col Torino per lunghi tratti mi ha dato una bellissima impressione e quindi domani dobbiamo sicuramente attraverso la prestazione cercare di fare un miglioramento in questo senso. Sappiamo che di fronte abbiamo una delle squadre più forti del campionato. hanno abilità, hanno idee, hanno tutto, hanno fisicità e quindi è bello confrontarsi e vediamo poi alla fine della partita che cosa succederà. Ciao mister, Massimo Canta di Carta Canta. Hai già risposto alla domanda che volevo farti sulle difficoltà di assemblare tanti giocatori nuovi. Allora ti chiedo, ho osservato Birindelli con il Torino, mi sembrava che nel primo tempo fosse un po' frenato magari da disposizioni tue tattiche, nel secondo tempo però l'abbiamo visto proporsi in un altro modo. è un giocatore che può darti tante soluzioni in fase pensiva, anche di conclusione come lo hai visto? Io non freno nessuno, anzi cerco di spronare, di avere coraggio perché poi chi ha abilità deve mostrare tutte le qualità tecniche e fisiche che ha a disposizione e che poi oltretutto può mettere a disposizione della squadra. Birindelli è uno che ha un motore importante e lo deve mettere a servizio di se stesso e della squadra. Quindi non obbligo nessuno a stare calmo, anzi, andiamo. Buongiorno mister, Marco Este, Este News. Per la prima volta forse nella gestione, nell'era Berlusconi, il Monza non si presenta da favorito a questa partita. può aiutarvi in questa situazione? Magari sarete un po' più leggeri, anche di testa, senza pressioni, perché comunque tutti domani si aspettano almeno sulla carta la vittoria del Napoli. Questo può aiutarvi? E poi anche un commento su Sfalletti. Ma no, le pressioni te le dà l'avversario, le pressioni te le dà la categoria. Qui in un certo senso sono pressioni tecniche, pressioni fisiche, pressioni di condizione. Sono situazioni che arrivano più che altro dal di dentro per poter confrontarsi con queste squadre, con questo campionato. Quindi c'è la volontà, c'è la voglia di, prima di tutto, mettere a posto le cose. Quindi condizione fisica, identità e poi qualità tecniche. Che ne abbiamo, che ne abbiamo, ne abbiamo anche tante. Dopodiché noi faremo il nostro campionato, mi auguro da protagonisti, perché la squadra ha tante abilità. E quindi bisogna essere sereni, tranquilli, continuare a credere in quello che facciamo. Per quanto riguarda Sfalletti è un mostro sacro. Che cosa devo dire di Sfalletti? È sicuramente un riferimento, come ci sono altri allenatori nella Serie A che sono veramente tra gli allenatori più bravi al mondo. Quindi considero la scuola italiana tra le più competitive. E quindi Sfalletti è sicuramente uno di questi nomi da prendere a riferimento. Buongiorno mister, Fabio Alain, tutto Monza. Parlando invece di singoli, sappiamo bene che uno degli ex sarà Petagna. Quindi volevo chiederle innanzitutto come sta, come ha vissuto questa settimana di avvicinamento affrontando appunto dei giocatori che conosceva fino a pochi giorni fa. E oltretutto come sta a Sensi? Petagna ha bisogno di lavorare. È il problema che ci sono le partite, quindi per lui queste partite serviranno per prendere la condizione. Perché a me piacerebbe prendere Petagna, metterlo da parte, fargli fare due allenamenti al giorno, rifargli fare una preparazione per ricondizionarlo al meglio. Però non è possibile, quindi prenderà la condizione giocando. Sicuramente è una partita speciale per lui e mi auguro che faccia un'ottima partita. Per Sensi sta migliorando la sua condizione e quindi mette nelle gambe ancora più possibilità di poter giocare. Buongiorno mister, Diego Marturano è il cittadino. Rispetto alla partita con il Torino, in settimana avete preparato qualcosa di particolare avvicinandovi a Napoli oppure tu vedi più il percorso per tante giornate e quindi continui a lavorare sull'idea di squadra? No, io ci sono i due percorsi. Da una parte c'è l'obbligo di preparare una partita, dall'altra c'è l'obbligo di far diventare questa squadra con un'idea comune. E quindi si va avanti come poi del resto si è sempre andati avanti in tutte le stagioni. Questa è particolare, quindi il mercato ci ha dato la possibilità di mettere dentro della gente magari non da subito e quindi si cerca di inserirla al meglio. Armando è velocissimo, volevo sapere nel percorso di crescita anche fisica sicuramente quanto è distante la possibilità di vedere Pessine e Sensi assieme dall'inizio? Questo non lo so, questi saranno gli allenamenti, sarà la loro condizione fisica. Nella mia testa è di farli giocare insieme. Li abbiamo presi per questo e quindi quando staranno bene si giocheranno insieme. Tornando al discorso della partita con Napoli e le differenze rispetto al Torino. State preparando anche una partita proprio diversa col Torino, con precedente assenza e una condizione approssimativa anche da parte loro, si poteva pensare di fare un certo tipo di partita. Con Napoli proverete a rifare la stessa partita o, vista anche la forza dell'avversario, vista anche la gara inaugurale degli Azzurri, state pensando ad una gara diversa? L'ultima chiosa ha fatto due o tre riferimenti al discorso del mercato perché si aspetta gli ultimi giorni del condo. No, no, io ho parlato del mercato che è stato fatto. Poi per il resto non fatemi domande, anzi approfitto perché non risponderei. Per quanto riguarda la partita del Napoli, il Napoli ha un modo diverso di giocare rispetto alle altre squadre, non soltanto rispetto al Torino. E quindi, gioco forza, ci devono essere delle precauzioni in questo, delle attenzioni magari diverse. vediamo che cosa succederà perché aver visto la partita che ha fatto a Verona dà l'impressione di essere tranquillo nel campo ma poi cambia marcia e in giro alle dieci minuti magari sei sotto 2-3-0. quindi ha motore veramente importante e ha qualità davanti da grande squadra come lo è.